Vittime manipolate e ridotte in schiavitù attraverso il rigido controllo dell'alimentazione e la negazione di ogni contatto con il mondo esterno. Sono le accuse nei confronti degli appartenenti ad una setta che operava nel campo dell'alimentazione macrobiotica tra le Marche e l'Emilia Romagna smantellata dalla polizia. 5 le persone indagate al termine delle indagini delle squadre mobili di Ancona e Forlì supportate dal servizio centrale operativo con accuse che a vario titolo vanno dall'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ai maltrattamenti dalle lesioni aggravate all'evasione fiscale. L'inchiesta è partita 5 anni fa grazie alla denuncia di una ragazza. Ai poliziotti la giovane ha raccontato di aver creduto ai benefici miracolosi promossi dal capo della setta Mario Pianesi, noto imprenditore del settore, è il padre di un punto macrobiotico con oltre 100 fra ristoranti e punti vendita. Secondo Pianesi, 77enne, la sua dieta sarebbe stata in grado di guarire malattie incurabili. Una delle vittime era arrivata a pesare 35 chili dopo essersi sottoposta al ferreo regime alimentare in posto. Secondo quanto si è appreso la ragazza quando ha deciso di intraprendere la dieta chiamata MAPI dalle iniziali dell'uomo non aveva problemi di peso. Attraverso il controllo dell'alimentazione e la negazione dei contatti con il mondo esterno, anche medico, la setta era riuscita a gestire ogni aspetto della vita degli adepti fino a pretendere da loro diverse donazioni di denaro. Si tratta per lo più di giovani emotivamente fragili, in alcuni casi con alle spalle un passato di tossicodipendenza che venivano raggirati e indottrinati dal maestro e dai suoi collaboratori e convinti a cambiare vita. Agli indagati, fra i quali risulta pure la moglie di Pianesi, vengono contestati anche una serie di reati di natura finanziaria per aver evaso il pagamento delle tasse per centinaia di migliaia di euro.